Ingegnere, l'ha definita la fossa dei leoni, di certo non gliel'hanno mandata a dire, però alla fine è arrivato anche qualche applauso, il suo bilancio? No, ma positivissimo, io dove c'è confronto, dove c'è sincerità, dove ci sta dialogo, io trovo bello e mi diverto, per cui trovo sicuramente il bello della democrazia, che ognuno pensa e dice quello in cui crede, e se uno è in buona fede non ha nessun problema a confrontarsi con la realtà. Ma è vero che l'hanno sfidata via Facebook? Sì, è vero, siccome io sono uno che mi faccio tutto da solo, mi faccio tweet da solo, mi faccio Facebook da solo, era venuto uno di loro, e che aveva scritto, io dico scusa, invidami, dimmi o non faccia e fammi male domande, non fa cose che sono appese per aria, e così è nato. Vivremo mai alle manne in marino a confronto con i 5 Stelle? Non lo so, è un problema loro, io guardo a me stesso e già ho una certa difficoltà a darmi giudizi positivi. Grazie, grazie a tutti.